Che è quel giovane odio indisponente con la vespa scocchietante che disturba la mia pubblica quiete? Vedo qualche cosa sul giubbotto e poi c'è scritto, che c'è scritto SG, che vuol dire? Che è? Sandro Giacobbe, è impossibile, Sandro non ha lo spessore, e poi c'è il mandellino, il minimo deve essere che so un illusionista, un contorsionista, no, ma è un super eroe! Hai indovinato Matusa, sono super giovane! E poi dire prima la cosa, no?